Headset, questo sport, per tutti i smalti. Chi chiama? Castellaccio Roberto, sono il presidente della KV, che è un headboard. Quanti siete? Una trentina. Quindi questi giorni voi siete al massimo? Sì, sì, quando c'è vento, più genenti meglio. Salute i nostri amici, al Gero Channel. Ciao ragazzi! Ciao, buon divertimento! Grazie, buon tanto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!